La giornata di oggi può essere una giornata chiave per il futuro di Nico González, summit tra la Fiorentina e l'entourage, la Juve in Aguato. Le temperature del mercato ad agosto raggiungono le vit più alte e quello che sta succedendo intorno a Nico González conferma la regola, l'argentino può lasciare la Fiorentina e la giornata di oggi rischia di essere decisiva in questo senso. Il numero 10 della Viola è il primo indiziato per lasciare Firenze e dare nuova linfa economica al mercato della Fiorentina, oggi è previsto un incontro tra l'entourage del giocatore e Daniele Pradé, per comprendere quali margini ci siano per imbastire una trattativa con la Juventus. Due potrebbero essere le chiavi per aprire le ritrosie della dirigenza Viola e far decollare questa operazione. Meccani e Artur le chiavi per Nico González, la Juve mette la freccia, la Juventus è alla caccia di esterni d'attacco per completare la Rosa, con Federico Chiesa ormai ufficialmente fuori dal progetto tecnico, mentre la Fiorentina ha bisogno di un rinforzo a centrocampo. Ecco quindi che la soluzione che potrebbe far decollare la trattativa tra bianconeri e Viola è rappresentata dall'inserimento di una contropartita tecnica, Weston Meccani e Artur i due principali indiziati, entrambi i giocatori piacciono a Raffale Pajadino e, oltre ad essere in uscita dalla Juve, possono rappresentare un ottimo rinforzo per Fiorentina. Insomma, la pista Nico González potrebbe incendiarsi per la Juventus e diventare l'ultimo episodio di un'operazione sull'asse Torino-Firenze.